Le politiche di coesione sono saltate. Quando si dice prendiamo i fondi sviluppo e coesione, li gestiamo da Roma e ci dovete dire che progetti volete fare, ma quale autonomia reggione? È evidente che siamo di fronte a un tentativo di ricatto politico che noi non accetteremo mai. Allora, non perdete tempo, lo vorrei dire ai nostri interlocutori, voi vi dovete solo augurare che Vincenzo De Luca abbia un infarto fulminante, ma se, come mi capita, godo ancora di buona salute, state perdendo tempo, toccando ferro. Ciao, ma sia l'ora. Quando dicevo ai miei amici del Nord perché sono preoccupato e finisco con questa considerazione, l'unica motivazione razionale che ci può essere dietro questa ipotesi di autonomia differenziata è quella che prevede la rottura dell'unità nazionale.